Grazie Presidente. Ho chiesto la parola per scusarmi in qualche modo con il collega di 5 Stelle al quale dicevo con un certo orgoglio che il mio gruppo lasciava libertà di parola mentre nel suo buttavano fuori quando vi era dissenso. Beh, ritiro questa affermazione perché, come avete potuto vedere, stanno facendo l'ostruzionismo all'ostruzionismo, stanno trasformando un gruppo di opposizione eletto per fare l'opposizione in un gruppo non di maggioranza ma servo della maggioranza per interessi che ancora dobbiamo capire in nome di un patto segreto che meriterebbe una commissione d'inchiesta e che c'è gli interessi che non conosciamo. Allora, siccome le cose devono essere dette, io le dico o attendo l'espulsione. Grazie Onorevole Bianconi, è scritto a parlare a titolo personale il deputato Latronico, pregone a facoltà. Onorevole Bianconi, colleghi, colleghi, lasciate... Onorevole Bianconi, prego deputato Latronico, lei ha la parola. Cerchi di aiutare, prego. A lei la parola, Onorevole Latronico. Presidente, io non posso fare il servizio d'ordine nell'aula, se lei vuole... No, no, ancora meno io quando c'è una discussione interna a un gruppo, però, mi dispiace. Prego, lei ha la parola. Grazie Presidente.